Bene, ora parliamo di Matteo Maria Boiardo, il prepulsore di Ariosso e del suo Orlando Filioso e quindi un poeta ritenuto minore ma comunque importante per l'umanesimo. Allora, il Boiardo nacque nel 1441 nei pressi di Reggio Emilia, da una famiglia nobile lui era un conte. Dal 1476 passa a Ferrara al servizio degli estensi e diventa diciamo poeta di corte e proprio dal 1476 inizia a scrivere il suo capolavoro, l'Orlando innamorato. Questa è la sua opera più importante. Come opera minore cosa abbiamo? Abbiamo un canzoniere in volgare intitolato Amorum Libri Tres, cioè tre libri di amori, che è composto da sonetti e canzoni che il poeta dedica alla donna amata Antonia Caprara. Allora, è un canzoniere diciamo che imita molto lo stile del Petrarca, però ecco la novità più importante è che a differenza di Petrarca o di Dante, quello di Boiardo è un amore sensuale, cioè un amore basato fortemente, fondato fortemente sulla bellezza fisica e sulla transizione sensuale della donna amata. La stessa cosa che troveremo nella figura di Angelica, la donna che fa girare gli occhi, che fa impazzire i cavalieri di Carlo Magno. Allora, abbiamo detto che dal 1476 il Boiardo inizia il suo poema cavalleresco l'Orlando innamorato. Già dal titolo capiamo che c'è una fusione tra la materia carolingia e quella bretone. Infatti il titolo originario era l'innamoramento di Orlando, poi è stato trasformato nell'Orlando innamorato anche per seguire il titolo dell'Orlando furioso, anche perché il furioso non è altro che una continuazione, soprattutto a livello di trama, dell'Orlando innamorato. Ecco, perché fusione tra materia carolingia e bretone? Ma perché per la prima volta, lo dirà lo stesso poeta nel proemio, per la prima volta troviamo Orlando che era un cavaliere di Carlo Magno, quindi un cavaliere del ciclo carolingio, anzi il cavaliere più importante, più glorioso, più eroico, quello che ha dato la vita a Roncisball per salvare il suo re e il suo esercito. Ecco, vediamo però un Orlando, il cavaliere perfetto, come lo chiama lo stesso Boiardo, un Orlando che dimentica il suo compito di cavaliere e quindi dimentica di combattere per il re e per la religione e perde la testa per una donna che è appunto Angelica, una principessa del Catai che sarebbe l'attuale Cina. Quindi per la prima volta abbiamo un cavaliere del ciclo carolingio e una tematica che è la tematica centrale, ce l'abbiamo anche nel titolo, la tematica dell'amore che è una tematica del ciclo bretone e per la prima volta noi troviamo Orlando innamorato. Va bene? L'opera è in 69 canti e purtroppo è rimasta interrotta al nono canto del terzo libro perché nel settembre del 1494 il poeta, visto che erano arrivati i francesi in Italia e la stavano conquistando tra l'altro senza colpo ferire, il poeta non se la sentì più di fronte a queste brutte notizie, non se la sentì più di continuare a scrivere e quindi interruppe la scrittura della sua opera con la speranza di poterla riprendere poi in seguito, solo che poi dopo qualche mese nel dicembre del 94 il boiardo morì. Vediamo proprio gli ultimi versi, ecco, mentre che io canto oidio redentore vedo la Italia tutta a fiamma e a fuoco per questi galli che sarebbero i francesi che con gran valore vengono per disettare non so che loco, però vi lascio in questo vano amore de fiordespina ardente a poco a poco, un'altra fiata se mi sia concesso raccontaròvi il tutto per espresso. Quindi il poeta si augurava di poter riprendere questo poema in un momento più sereno e invece poi non ce la fece più perché morì. Però appunto il poema rimane interrotto e Lariosso, anche per rendergli omaggio, riprende la storia laddove si era interrotta nell'Orlando innamorato. che poi è una storia, ecco, l'intreccio di questo poema è un intreccio molto ingarbugliato che non si può raccontare in maniera lineare. Possiamo solo dire che Orlando, in primis, ma anche gli altri cavalieri, anche il cugino di Orlando e Rinaldo perdono la testa per Angelica e quindi abbiamo, come abbiamo detto, la centralità dell'amore che era una tematica del ciclo bretone. Angelica che è una donna sensuale, che abbaglia questi cavalieri per la sua bellezza, per la sua sensualità. Ecco, il poema si interrompe quando Carlo Magno, alla vigilia di una battaglia molto importante, fa custodire Angelica da un cavaliere anziano, un certo nanno, e la promette in premio al cavaliere che in questa battaglia ucciderà più nemici. Ecco, qui si interrompe la storia dell'Orlando innamorato e da qui riprenderà a tessere i fili, a intrecciare i fili, proprio Lariosso nell'Orlando furioso. Allora, l'Orlando innamorato a chi era rivolto? Era rivolto naturalmente al pubblico colto della corte di Ferrara. Siamo nell'ambito, come abbiamo visto anche per il Morgante di Pulci, dell'espressione colta del poema cavalleresco. Queste storie venivano lette in pubblico e infatti già l'inizio del proemio ci fa capire che il poeta si rivolge proprio al suo pubblico di corte, donne e cavalieri. Quindi era un poema destinato alla lettura d'alta voce, alla lettura pubblica e quindi aveva un intento edonistico, cioè queste storie che il poeta raccontava come se fosse un cantare di piazza dovevano intrattenere e far divertire il pubblico di corte. C'è anche nella storia un intento encomiastico perché durante il poema viene anche raccontata la storia d'amore tra Ruggero e Bradamante. Ruggero era un cavaliere saraceno, Bradamante era un amazzone cristiana, una guerriera cristiana che alla fine appunto fa innamorare Ruggero, tanto che alla fine Ruggero si convertirà al cristianesimo e sposerà Bradamante. E proprio da questa unione nascerà il capostipide della dinastia Essenze. Ecco perché l'intento encomiastico a cui era molto sensibile il pubblico della corte. Bene, altri motivi, altre tematiche. Allora, il boiardo ritiene molto attuali i valori cavallereschi. I valori cavallereschi della cortesia, quelli che si riassumono nella parola cortesia. E vorrebbe che questi valori fossero considerati attuali e fossero seguiti anche nel mondo della corte. A questi valori il boiardo unisce i valori umanistici perché naturalmente siamo di fronte a un'opera del periodo umanistico. E quali sono questi valori umanistici o queste tematiche umanistiche? Allora, la vittura e la fortuna è l'individualismo dei cavalieri. Allora, partiamo dall'individualismo dei cavalieri. Questi cavalieri non combattono più per il proprio re o per la propria religione, ma combattono per se stessi, per la propria gloria, per raggiungere la gloria. Va bene? Oppure per amore di una donna, come appunto quei cavalieri che perdono la testa per Angelica. E c'è anche il contrasto tra virtù e fortuna che però, ecco, secondo boiardo è a favore della virtù perché questi cavalieri con la loro virtù, con il loro valore, con il loro coraggio, con la loro intraprendenza, eccetera, eccetera, possono raggiungere, raggiungeranno gli obiettivi prefissati. Cioè, riescono con la virtù a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissi e quindi a, diciamo, ecco, essere padroni della loro vita e dominare la fortuna, la sorte. E poi un'altra tematica importante è la tolleranza, perché questi cavalieri di Carlo Magno combattono contro cavalieri mori, cioè saraceni, musulmani, diremmo noi adesso, però i musulmani non vengono mai visti, diciamo, in maniera negativa. Viene rispettata la loro religione. Pensiamo al duello tra Orlando e Agricane, sono i più forti guerrieri Orlando della parte cristiana, Agricane della parte musulmana, però, ecco, si rispettano a vicenda. Orlando rispetta la fede di Agricane e Agricane a sua volta rispetta la fede di Orlando. Va bene? Quindi la tolleranza nei confronti del diverso, l'apertura nei confronti di tutto ciò che può essere diverso da noi. Per quanto riguarda lo stile, ecco, forse lo stile è stato quello che ha un po' rovinato l'Orlando innamorato, perché l'Orlando innamorato è stato sempre considerato un'opera minore, minore rispetto all'Orlando curioso, anche se, abbiamo visto, l'Ariosso ha continuato la sua storia proprio laddove si era interrotto l'Orlando innamorato. Ma perché? Perché lo stile non è perfetto, non è perfetto secondo i canoni del Bembo e quindi nel Cinquecento, ecco, l'Orlando innamorato venne un po' messo da parte, perché lo stesso Ariosto, nello scrivere l'Orlando furioso, tenne conto dei canoni del Bembo e poi, lo vedremo nell'ultima edizione, riscrisse il suo poema nella lingua petrarchiesca. Invece lo stile, la lingua dell'Orlando innamorato è un po' ibrida, perché da un lato c'è la lingua colta, e quindi c'è la lingua colta del Petrarca, del Boccaccio, però dall'altro c'è anche una lingua popolare, perché ci sono innessi del dialetto padano e ferrarese, anche perché il boiardo si rivolgeva al pubblico della corte ferrarese e quindi voleva anche farsi capire. Ecco, quindi è una lingua un po' ibrida e proprio per questo, ecco, quest'opera è stata sottovalutata, perché appunto lo stile non è curato e non è perfetto.